Nell'orto del povero mangiano tutti, nell'orto del ricco mangia solo lui. C'è crisi di persone vere, di sincerità, di affetto, ma soprattutto c'è crisi di valori, tempi moderni, no, tempi poveri d'anima. Non è molto, ma è tutto ciò che ho. Sai, le persone oneste e reali non ricevono mai meriti nella vita, ma possono guardarsi allo specchio senza vergognarsi di nulla. Se ti piace GESPANIUAL, metti un like e iscriviti al canale. Grazie mille. Non lasciati ingannare dall'apparenza, perché la vera bellezza si trova nel cuore. Sai, quando si è stanchi, non si ha bisogno di parole, ma di un abbraccio, di una carezza, di sapere di non essere soli. La cattiveria è degli sciocchi, di quelli che non hanno ancora capito che non viveremo in eterno. La cattiveria rende brutti, non l'età. La bellezza non è avere un bel viso, ma avere un buon cervello, un cuore gentile e, soprattutto, una bella anima. L'educazione non ha bisogno di università, i valori si imparano a casa. Dovremmo solo accettare che, quando qualcuno non si fa sentire, è perché non vuole e dovremmo lasciar perdere. Un bagno di umiltà, fatelo ogni tanto. Grattatevi giù, quella grossa di ostentata superiorità. La nonna è sempre la nonna, anche quando, prima di indovinare il tuo nome, nomina tutto l'albero genealogico, dal 1920 al 2023. Il comportamento è lo specchio in cui tutti mostrano la loro vera immagine. Se riesci a provare dolore, sei vivo. Se riesci a sentire il dolore degli altri, sei umano. Gli uomini che sanno amare ti fanno sentire regina, anche senza un castello. Essere coraggiosi vuol dire avere paura, ma andare avanti lo stesso. Non portare ancora a nessuno. La serenità è più importante. Ci sarà il tempo a dare a ciascuno le giuste risposte. Sai, un gatto non farebbe mai amicizia con chi non è ben disposto verso di lui. I gatti non sbaliano mai sulle persone. Tutto ciò che l'uomo ha imparato dall'istoria, è che l'uomo dall'istoria non ha imparato niente. Nonostante tutto, sono ancora in piedi. La generosità è un dono che appartiene all'anima. Non dipende da ciò che hai, ma da ciò che sei. Se ti piace già spagnolo, mettici un like e iscriviti al canale. Grazie mille. Siamo fatti di carne, ma costretti a vivere come se fossimo di ferro. Abbiamo tre vite. Quella pubblica, quella privata e quella che si inventano per noi le persone pettegole. Rispetta sempre chi ti dona anche solo un pezzo del suo cuore. Magari l'è stato spessato più volte e lì era rimasto solo quello. Abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Purtroppo la verità è questa. Ho conosciuto il nulla nelle grandi cose, ma ho trovato l'immenso nelle piccole cose. Fai attenzione, eh? Di chi è ti pidi? Sale e zucchero sembrano uguali. Ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. E lo so, lo so che non parlo bene in italiano. Mai sto imparando, eh? Piano piano. Grazie mille. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Restate bene, mi raccomando. Ciao.